Abbiamo voluto provare a stabilire un patto con il territorio, perché mi sento di dire che qui in Primiero, vista la peculiarità del territorio, quello che stiamo offrendo ai nostri ragazzi del territorio, questo percorso in apparenza individuale, rappresenta veramente un patto con il territorio. L'idea è quella di riuscire a fidelizzare sul territorio i nostri ragazzi, fidelizzandoli con le aziende del territorio, ma cercando di farli rimanere sul territorio, avendo comunque percentuali, sappiamo che di persone e di ragazzi che scelgono magari hanno uno sguardo fuori provincia abbastanza importante e questo vuole essere un contributo per dare occasione e opportunità di rimanere sul territorio. Il significato di questo progetto è proporre finalmente un percorso di quarto anno, un percorso per arrivare al diploma di tecnico per i ragazzi del settore elettromeccanico. Abbiamo già avviato questi percorsi per il settore alberghiero già da qualche anno, con un buon successo per i ragazzi e per le aziende che li hanno ospitati e finalmente abbiamo la possibilità di attivarlo anche nel settore meccanico che in questo momento ha preso la curvatura dell'aspetto elettromeccanico. Una sfida importante per dare ai nostri ragazzi una marcia in più, un elemento in più per inserirsi nel mondo del lavoro, ma soprattutto un progetto che scaturisce dalla collaborazione di varie entità presenti sul territorio. L'idea è nata da una serie di primi incontri informali che si sono svolti tra il Presidente della Comunità di Valle, il Direttore Generale di ACSM, ITAS Assicurazioni, l'Associazione Artigiani e noi stessi come ente di formazione presente sul territorio. L'idea era quella di proporre qualcosa di nuovo per i ragazzi del primiero, qualcosa di più per dare a questi ragazzi un valore aggiunto all'uscita del loro percorso formativo e dopo tante idee abbiamo focalizzato l'attenzione sulla possibilità di attivare questo percorso con il sistema dell'apprendistato duale. Questo progetto dell'apprendistato duale è molto importante perché si aiuta a risolvere un problema che è il problema della manodopera che da anni affligge il nostro settore. Abbiamo trovato dei partner all'interno della comunità molto importanti che ci supportano anche a livello economico per risolvere questo problema. Parlo e ringrazio la ITAS Mutual, e ACSM che insieme a Associazione Artigiani e a ENAIP con il coordinamento della comunità di Valle hanno creato questo tavolo che è un tavolo che ha delle visioni comuni per risolvere appunto il problema dei giovani e soprattutto indirizzare i giovani verso il mondo dell'artigianato. Stiamo portando avanti in questi ultimi 3-4 anni parecchi progetti che si occupano delle comunità e soprattutto delle identità territoriali. Noi ci siamo prefissati in particolare tre punti che riguardano argomenti relativi alla sostenibilità, all'inclusione e alla sicurezza. Stiamo formando dei progetti specifici proprio che vanno a riguardare questi tre punti. Questo per noi è un importante progetto dove stiamo cercando di investire nel nostro territorio, nella formazione dei giovani per dare l'opportunità di creare delle identità proprio territoriali e per portare avanti una politica economica di autosostentamento. L'ACSM su questi aspetti è sempre stato presente comunque perché nel corso degli ultimi anni sono stati già messi in essere degli accordi con istituti trentini e noi ogni anno ospitiamo degli studenti per fare degli stage o per fare comunque della formazione al lavoro. Quindi da questo approccio è nata un po' l'idea di dire bene ma a questo punto facciamolo noi, questo tipo di corso sul nostro territorio e quindi abbiamo subito condiviso questa idea con ITAS, con l'associazione Artigiani, con l'ENEP che l'hanno sposata subito e io li ringrazio perché comunque sono stati dei partner che hanno capito subito l'importanza di questo progetto non solo nel brevissimo termine ma come investimento per creare delle risorse qualificate per tutte le aziende del nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.